Il pubblico, guardi il mio baciato Allora Buonasera Buonasera Ma che cazzo C'è uno pieno di sangue Buongiorno ragazzuoli Oggi siamo qui Sono uscito da casa, sono in macchina Adesso che sto aspettando mia madre Che finisce di fare colazione Al bar io non ne ho praticamente voglia Di fare colazione E niente Oggi ovviamente dobbiamo partire Dobbiamo andare a Milano Dallo stortino E adesso cercherò di chiamare Al telefono lui Per dirgli che appunto ci stiamo partendo Quindi Vediamo un pochettino Stiamo chiamando, ok ragazzi Vediamo un po' eh Pronto brutto Oh guarda che sono in macchina Sto anche registrando Ma sto registrando Sì sto registrando Sto registrando E me lo Ho detto che stavo chiamando a te E quindi ho detto Ma lo chiamiamo a quel brutto Ma guardate sto brutto Io sto montando i video Per oggi Ho capito E niente Io al momento ancora sono nella mia città Poi ti chiamo direttamente Quando sono nel bus Per andare all'aeroporto al massimo Per andare nell'aereo Oppure Oppure ti chiamo direttamente quando arrivo Dai Ci sentiamo Bella bella Michi Ok ok Ciao Michi Ciao 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 E niente ragazzoli Abbiamo chiamato Michi Io mentre sto facendo proprio non la sauna di più E niente Adesso aspettiamo l'ultima mamma che esce dal bar Ci vediamo direttamente in aeroporto Bella Buonasera buonasera Sono al tra virgolette parcheggio Perché il mio carissimo amico Quindi anche l'amico di mia madre Praticamente cosa ha fatto? Ha fatto un giro della madonna E ha parcheggiato in un posto Dove praticamente le auto Sono noleggio E quindi lui ha parcheggiato nel punto Dove ci sono le auto noleggio Però vabbè Dettagli Comunque stiamo camminando Per andare in aeroporto E niente Poi ci vediamo direttamente quando sono in aereo Che vi faccio vedere un po' il panorama Qua di qua mamma Vi faccio vedere un po' il panorama E niente ragazzi Adesso stacco Ci vediamo direttamente quando sono sopra l'aereo A tra poco Bella Signore e signori Benvenuti a bordo di questo polo easy tenta Siete pregati di riporre i vostri bagagli più voluminosi nelle cappelliere Con le ruote rivolte verso il fondo Gli articoli più piccoli come portatili Corsette e acquisti di cifri e sopraviti Vanno riposti su... Ragazzi Eccoci Siamo arrivati a Milano E niente Adesso andiamo da Da Miki Or come non troppo Con la maglietta ovviamente quella sua Anche perché Madonna ragazzi Tutti che mi guardano È la prima volta che faccio la vostra igiene Viaggio tranquillo A parte dei cinesi che si stavano mangiando le uova dentro Dentro il Come si chiama Dentro l'aereo Alla fine Tutto è bene quel che finisce bene Siamo arrivati Ci vediamo tra poco Quando saremo con Storto ma non troppo Vieni Eccoci qua ragazzuoli Sono a casa Di un youtuber molto famoso Famoso e soprattutto Brutto Che più brutto non c'è Ve lo presento È lui Limitabile Proprio lui Il brutto Mamma mia Ciao ragazzi Ma vedi che qua si vede bene Hai visto si vede benissimo Perché ci vuole l'aria del nord L'aria della casa di un fashion blog Un fashion blog Tantissimo Mamma mia Ma ma vedi che sei sempre brutto Anche dal vivo Sì Eppure te non è che sei proprio Ah io sono panzuto Ho la pancia Ma non troppo Sì sì Sei brutto ma non troppo Ah ma c'è anche un'altra persona Che nessuno ha visto Ma devo venire lì No 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 Non facciamola vedere Sì Ma vabbè Guardate chi c'è pure Chi è lei La stupida No Aia No La bellissima lama Già così è molto No no La signorina lama Ecco facciamo Vabbè Regà Noi ci vediamo direttamente all'aeroporto Mercoledì perché Meglio così Oppure facciamo vedere un po' di games week Sì Ok facciamo vedere un po' di games week Dai bella ragazzi A più tà A tra poco Bella Grazie E' bello che non c'è solo lui C'è anche un altro brutto qua Avvicina Sì come faccio Guardate chi c'è Signor Captain Blazer Sono fake È fake È fake È fake Non hai il verificato No Tu ce l'hai invece il verificato Regà Mi ami Ora vai il titolo clickbait Dillo in pubblico Guardi il mio facciato Io amo Dario Ho aspettato questo momento per dirlo in quattro Sì Mi ama tantissimo Intanto io sto morendo dal caldo Guarda il dettaglio Bella regà Allora Io faccio così Ok Andre Mi devi dare tutti i soldi Chi c'è con me? C'è Erika La moderatrice di Storto Ma non trovo Ma ti togli? Oh ma c'è questo brutto qua Questo E dopo Raga Ma dentro c'è caldissimo Simo Oddio Oddio C'è uno pieno di sangue Oddio No vabbè Che sono questi gli altri? Raga c'è quel tizio Che vedete che si sta avvicinando piano piano Questo qua Faccio Aspetta Che praticamente Non so perché Forse ce l'ha con noi Ma fanculo Ma si è tolto la Ma 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 non ce l'aveva con noi Come vado fuori Anima L'importante E' la C'è la La fissa armonica La fissa armonica E qua ce ne è veramente poca Ma io voglio incontrare Bingo killer Ma attenzione Ho incontrato Bingo killer Ho incontrato Dark Raga Sò Dai Raga Eccolo Dark Pensavo a cercare tutta la live Pensavo a cercare tutta la live E io Continuando a bloccare De cavo levate Dark Eccolo qua Dai ragazzi Ma sorto dov'è? E' dentro Cazzo Do stai Con la sapere Poi veni un secondo dalla donna mia Da due ore ti stiamo cercando Si si dai 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 che spettacolo Eccolo qua Un bel bacio Ragazzi baffone d'oro Seguitelo su youtube Bingo killer 95 95 Vi lascio il link in descrizione Che master che sei Grande Marello ma dai Allora Buonasera 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 Allora Ti ho fatta la sponsor T'ho donato Non tanto Però t'ho donato Ma la ricorda zirnilo No Comincio con la D Ma ne valeva la pena donarti almeno Si Ah ok ok Vogliamo sapere tutto noi Inizia con la D Vuoi che te lo dico? No dimmi la traditela Da 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 Dark Knight Prova No Prova Prova avvicinati Si avvicina quel momento Dark Knight Dark Knight Dark Knight Dark Knight Ma che cazzo Stai a dire la mamma No vabbè No è il segreto È vero Ma ma la bu Eh Ma la faccio sempre Una volta ti ho detto Tagliala la faccia Che cosa la faccio a te E lui E tu mi hai detto Ma che cazzo Che cazzo Che cazzo te ne vede che Che cazzo Grande Grande Mi ha detto 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 Tantissimo Dai Bella regà Ciao regà Buonasera regà Ciao Lui è sempre Pingu Sta arrivando lo sortino Siamo uscendo dal Games Week E come potete vedere È sera Praticamente E niente Io sono insieme qua Il nostro Pingu E adesso Stiamo andando a vedere Se all'hotel di fronte Ci sta il nostro carissimo Power Se riusciamo ad incontrarlo Perché Pingu Ha spoilerato Il posto di Reckings Power Tutti Ci sono tutti a dormire Oh Michi C'è Reckings all'hotel pure Che combomba Ci siamo conosciuti Per la prima volta Regà Non sto in me Io sono felicissimo Adesso stiamo andando Anche a mangiare Al ristorante insieme Pensate un po' Con Michi Con lo stortino E non dite che Pingu è raccomandato Non dite che Pingu è raccomandato Tranquillo Lo raccomanderò io Quando arriverò ai 100k Se ci arrivi No ma così mi bruci Sì vabbè tranquillo Non frottitene Tanto la gente deve rosicare Rosicone So che ci sono pure gli haters qua Siete rosicone Pupu Come dice Pingu E niente ragazzuoli Adesso proviamo a vedere Se ci stanno i boss C'è qualcuno che saluta da dietro Non so chi sia Ah ok Aspetta chi è? Luke Luke Ah è la cugina di Michi questa Nel suo canale Nel canale di Michi Ha un nome Però io non lo dico Perché per me È la bella lama Gosto? Regà Metta a fuoco Sì Metterò a fuoco Metti a fuoco Metti a fuoco Stupida Bips Ok 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 A posto Siamo tornati dal Games Week adesso Siamo stanchissimi Distrutti Verro? Distrutti Tanto C'è la ma Che ha il collo Vero ma Certo Però è stato bello Sei brutto 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 Tutto forte Si rompe l'inquadratura della videocamera Levala I miei occhiali sono l'orci Era tutto bello in bianco Ma vi rendete conto? Cioè io devo stare in mezzo A questi tizi Un momento passano le farfalle Quelle farfalle ce l'hanno con te Ti odio Pingo Sei brutto Tutto a morte Guarda quel brutto lì Sei brutto Ma siete brutti tutti e due Giallo Jack Ragazzi Storto Ma che si fa Miki Storto Oddio Miki Cercala Stortino Sì L'ha ammazzato Facchio Facchio Muori Facchio Mi muori Questo anche caldo Sono la tremarene Facchio un pito Ragazzi Facchio cimicero C'era tipo Cos'era Miki cos'era Era tipo una cimice Un pterodatino Era un mostro E c'era tipo lui Spaventatissimo Il cuore in gola Mamma mia Ci ha pensato allo stortino Ci ha pensato allo stortino Poi intanto Ma non si è proprio spaventato C'è proprio è andato lì Tranquillo Ma la manina Scatto finito Stortino Sto fanno La manina sto Stam Stam La manina vicine Ma vabbè Vabbè Bella ragazzoli Sono nel treno Perché come potete sapere Anzi non lo sapete Praticamente Dovevo prendere l'aereo Solamente che purtroppo Non avevo il passaggio E quindi non avendo il passaggio Lo zio di Di Michi Appunto Mi ha accompagnato Alla stazione Alla stazione Ho preso il primo treno Dove sono adesso Che mi porterà Milano 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 Porto Garibaldi Gabriele stavo dicendo Raga E poi da lì Porto Garibaldi Dovrò scendere da questo treno E riuscire a prenderne un altro Subito dopo Tre minuti ripartirà Quindi Deve essere velocissimo E Niente Adesso Come potete vedere Stiamo Praticamente Stiamo Praticamente Camminando Con il treno Vedete E praticamente Ragazzi Fate conto Che Tra un'oretta Più o meno Arriverò A Milano Porto Garibaldi E poi da lì Come ho già detto Dovrò prendere Il prossimo treno Che mi porterà All'aeroporto Sperando di ripartire Se ne salvi Perché è la prima volta Che piglio il treno Me l'ho mai preso da solo Ho preso un po' L'aereo Sì Il treno E niente Sto avendo difficoltà Molte difficoltà Con questo treno Però Speriamo di arrivare Se ne salvi Ci vediamo direttamente In aeroporto Quando saremo Direttamente Dentro l'aereo Ok Vi voglio bene ragazzi Comunque Questo Questo vlog è davvero bello Mi piace Mi piace Pensate che è un vlog Registrato In sette giorni Vlog di una settimana Ragazzi Qualcosa di veramente Eccezionale Bella Vi voglio bene Arrivederci Sono tornato a casa Questo è il giorno dopo Perché sono tornato Praticamente ieri E Mi sono Cioè adesso Che comunque sto registrando Sto editando il video Mi sto accorgendo appunto Che manca la clip Di quando sono dentro l'aereo Per ritornare in Sicilia E E Non so perché Il file è contraffatto Qualcosa del genere Danneggiato Roba del genere Perché c'è comunque La clip E Quindi Come avete visto Due secondi fa Praticamente prima di questa clip Ci sta appunto Il fuori dell'aereo Mentre sono Nel cielo Mentre sono nel cielo appunto E niente Mancano alcune clip Che sono state danneggiate Mi dispiace per questo Però comunque Spero che questo vlog Vi sia piaciuto Io Veramente Questo è stato Il vlog Più bello Della mia vita La settimana più bella Della mia vita Veramente Ho conosciuto Molte persone Poi sono stato Costorto Miki Che è veramente Una persona eccezionale Io vi voglio bene tutti Ci sono state persone Nel games week Ragazzi Che forse mi conoscevano Perché mi guardavano Molte persone Anche quando Non bloggavo E Non venivano Quindi Prossimo anno Ragazzi Se Mi incontrate Venite tranquilli Cioè alla fine È un'emozione Per me Quindi Non è un problema E E niente ragazzuoli Spero che questo vlog Vi sia piaciuto Fatemelo sopra Raggiù nei commenti Vi voglio bene a tutti Ragazzuoli Noi ci vediamo Prossimamente Con nuove video Nuove live Tra virgolette Nuove vlog Perché comunque Questa modalità di vlog Vi piace Non so perché Il vlog noioso Che ho caricato Qualche giorno fa Vi è piaciù Cacchio 300 400 visual Porca miseria Tanta roba Vi voglio bene Ragazzuoli Alla prossima Woohoo Bella boys Ciao Ciao